daniele rudoni ciao daniele e almeno se ci siamo riusciti finalmente a fare una grande dai ci sta a tutti ragazzi ragazzi adesso vi presento brevemente daniele perché personaggio che io davvero ci ritengo tantissimo ad avere nel canale grande professionista del fumetto bisogna dire sia per quanto riguarda i comics che per quanto riguarda i manga grandissimo colorista tra l'altro perché ha lavorato alla colorazione di tantissime opere sia di marvel dc tantissime cose riguardanti avengers thor anche dylan dog la color fest martin mister davvero tante 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 cose e ha pubblicato logicamente anche dei manga in italia di cui parleremo dopo visto che comunque questo canale parla principalmente di manga daniele ama i gatti quindi grande amico del canale perché no voglio dire poi è stato anche insieme a ruggine autore del mega mecca su milo che avete visto su instagram e che avete visto anche in diretta sulla pagina di luca manga school quando daniele e ruggine lavorano ai ai robot toglie ogni tanto abbiamo fatto qualche rai quindi lo avrete visto sicuramente lì daniele e poi anche grande insegnante perché insegna all'europia academy of fine arts a novara alla nuova accademia di belle arti a milano e soprattutto ragazzi alla mitica luca manga school di cui abbiamo parlato più volte luca manga school che abbiamo avuto anche caterina nel canale quindi la conoscono tutti tutti bene luca allora danni innanzitutto io ti do il benvenuto e come sempre mi piacerebbe iniziare così un po in modo confidenziale come se fossimo al bar a farci una birra insieme insieme a tanti appassionati di manga e visto questo canale parla proprio di manga voglio chiedere quali sono i tuoi manga preferiti di sempre ecco la domanda importante è quella più difficile perché cioè con tutti quelli che ho letto io non so tu hai dei manga preferiti di sempre e sono sicuro però per me è difficile nel senso che devo dire che tutti i manga che ho letto mi hanno lasciato qualcosa ma veramente tutti ma magari qualche grande classico importante che sarà sicuramente ce ne sono anche adesso è che mi piacciono molto poi magari ne parliamo esatto esatto però se devo scegliere quelli che proprio attenzione perché alcuni di questi nomi saranno veramente vi gadranno come delle meteore in testa tipo uno è sicuramente dna al quadrato perché è stato uno dei primi dei primi manga che ho mai letto dopo dragon ball è arrivato subito masakazu katsura con dna al quadrato pam così mi ha colpito dietro ha detto orca puttana esistono anche queste robe e perché prima non avevo mai letto niente del genere e da lì è iniziata un attimino la mia passione anche per il manga di tipo romantico che è una passione che ancora adesso avanti per dire invece le rom com non le ho mai digerite più di tanto ho sempre amato per dire tra i manga classici orange road perché izumi matsumoto mi è piaciuto mi piaceva mi piaceva sempre tanto come autore poi anche il fatto che comunque ci fosse in tv sempre quasi magia johnny aiutava aiutava parecchio no quei pomeriggio su italia 1 poi poi raccontami un po quale altro manga allora un altro manga che ha segnato la mia adolescenza è bastard quello proprio ha segnato la mia c'è un po perché era un metallaro pure io e quindi ovviamente trovavo tutte le citazioni sulle magie tutte quelle cosine che ci hanno fatto strippare e un po perché la qualità del disegno era talmente alta che penso che sia stata una delle una delle opere che mi ha spinto poi ad affrontare il disegno ma proprio il il fumento in generale ancora prima del manga perché allora hai visto il trailer del nuovo anime che faranno guarda sono molto molto preoccupato e quindi non l'ho visto a me mi ha fatto ripartire un po quelle vibes che mi aveva dato il mai mi ha ripreso un gasamento perché vedere dark schneider no che si mette lì a pronunciare quelle parole no zazard zazard lo vedi lì che già sei lì pronto che lancia un venone sei pronto fallo fallo ma mi ha fatto riprendere un po anche voglia di riprendere il manga che effettivamente non lo tocco ormai da tanti anni un po per il fatto che kajushi a giwara è un delinquente no ce l'ho lasciato lì così ha cominciato a fare di tutto pur di non fare pur di non continuare il manga tanto che super delinquente le dojinshi porno del suo stesso manga pur di non fare il suo manga no è ridicolo si è rimesso a rifare il suo manga pur di non andare avanti con il suo manga sì perché è ridicolo la perfect che poi è stata pubblicata in italia gran parte è stata ridisegnata da kajushi a giwara io l'ho presa tutta ovviamente è notevole tenere in mano una bestia così è davvero notevole poi il primo il primo volume intero è stato rifatto l'ha rifatto tutto quel cretino invece di andare avanti vabbè lasciamo perdere però rimarrà sempre nel mio cuore pur pur con io mi sono arrabbiato con tanti mangaka tanto che alcuni manga li ho buttati fuori da casa ma quello non ce l'ho fatta danni no no bastardi ancora bastardi ancora qui c'è sempre capito c'è no no io non mi sono mai arrabbiato e sarà perché ho presente quale lo sforzo creativo per andare a fare un manga così ampio così lungo così così pesante anche perché dal punto di vista proprio dello sforzo di disegno una roba pazzesca basta quindi non mi posso arrabbiare con quel cretino di a giwara non posso poi altri manga che rimangono sono berserk berserk rimarrà per sempre ovviamente seguito fin dal principio anzi c'è stata una piccola una piccola svista da parte mia perché ero così giovane quando letto i primi tre volumi che francamente non mi sono piaciuti sì cioè i primi tre volumi intendo quelli quelle quelle sottilette della della panini che uscivano ecco in i primi tre non c'era ancora il grande balzo del di gazzu che torna al passato di questo lunghissimo flashback che poi la cosa che è più più bella più più figa di berserk e quindi i primi tre volumi avevo rivenduti pensa te che adesso quelle sottilette vagano quasi una via no io avevo le prime tre pensa e poi mi sono ripreso tutta tutta la serie senza mollarla più ovviamente fino a una tristezza no che dopo tutti questi anni ancora non c'è una vera edizione degna di berserk perché tutte tutte specchiate a parte quella quella grande che avevamo fatto che però a livello estetico è davvero un pugno in un occhio con quella terribile fluo dai proprio in un manga così oscuro invece non so se hai mai visto l'edizione quella americana che ha fatto la dark horse quella in livello è vera pelle umana niente male fantozzi sarebbe stato pelle umana niente male niente male sì sì e ma non so magari arriverà anche qua chi lo sa e poi altri manga vabbè slam dunk e vagabond sono anche quelli qui dietro praticamente e poi c'è tutta l'edizione di la mia giovinezza è stato proprio un autore preferito soprattutto slam dunk è un manga che lo dico sempre l'ho letto proprio al momento giusto quando ero un ragazzo dell'età giusta mi ha lasciato tanto capito a livello di valori perché è veramente scritto bene poi è disegnato da dio ha fatto uno studio dietro a che sui giocatori dell'nba che è pazzesco no ricreando in un nel basket delle scene iconiche no delle scene iconiche del basket americano infatti anch'io l'ho letto in quel periodo lì è veramente non vedevo l'ora che uscisse questa benedetta sottiletta anche lì c'erano le sottilette anche io sono le sottilette io c'ho ancora quell'edizione lì l'ho regalata una mia ex dannazione ci credi le donne che rovina e poi altri due classici devilman sicuramente e ashita no joe quindi rocky joe questi sono due che mi hanno aperto come una cozza e sono rimasti nel mio cuore sono due manga che poi ultimamente sono ritornati alla ribalta molto molto forte comunque spinti anche da tanti influencer tanti ragazzi hanno recuperato rocky joe che era un manga che per tanti anni non aveva venduto quasi niente praticamente star comics ritrovata negli scambali per anni e anni e poi a un certo punto bam esplosa che succede ma che cosa sta succedendo sì veramente era un manga morto che è ritornato alla vita è pazzesco sono molto contento di questo io ovviamente avevo preso a suo tempo però sono molto contento perché se le nuove generazioni lo prendono e lo leggono oltre che metterlo nella libreria vuol dire che è tanta roba cioè nel senso vuol dire che cominciano a capire la storia del manga anche devilman opera incredibilmente importante diciamo che quasi tutti i manga che sono venuti dopo si sono ispirati a devilman è stato davvero un manga rivoluzionario secondo me e anche quella è un'opera molto bella molto scura molto profonda anche questo sono contento che sia i giovani che magari anche i più grandicelli che non l'avevano mai letto sono sono recuperati quindi dai devo dire che in Italia in questo momento la scena manga è diventata divertente è diventata ciò si può parlare anche con approfondimenti interessanti di manga storici parlare delle novità parlare davvero di tutto quanto a 360 gradi infatti anche nel titolo avevo visto stasera il manga a 360 gradi perché questo era 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 quello di cui volevo parlare andare a partire dalle letture arrivare poi fino a dentro come ci addentreremo piano piano nell'arco della live quindi sì effettivamente è bello vedersi parlare di manga condividere questa passione veramente veramente una figata quindi questi sono un po' i grandi classici che ti sono rimasti un po' nel cuore e invece adesso cosa stai leggendo cos'è che ti piace? ma guarda allora come voglio sentirmi per un attimo influencer bisogna che consiglia a questi ragazzi qualcosa da leggere beh non è che consiglierò molto di più di quello che consiglio di solito perché sei onnivoro quindi praticamente già però ho portato qui il manga che sto leggendo così ve li faccio vedere e anche io mi sento influencer per 20 secondi Chainsaw Man bellissimo Chainsaw Man che secondo me è uno dei manga più forti dell'ultimo periodo cioè veramente ragazzi non è possibile non leggere Chainsaw Man cioè va bene Jujutsu Kaisen va bene Demon Slayer tutto quello che volete ma è arrivata anche Caterina ciao pane manga e va bene tutto però se non leggete Chainsaw Man non va bene ragazzi leggete Chainsaw Man Chainsaw Man piace parecchio anche a me eh no è veramente ma proprio dal punto di vista proprio della narrazione qualcosa di eccezionale di diverso dal solito sì perché il disegno a tratti a me piace tantissimo nel momento in cui lui si trasforma che diventa così splatter così sporco però generalmente alcune cose sono un po' storte a volte non è proprio la cosa migliore no? è quello che a pelle molti fa storcere il naso però secondo me Fujimoto è un grande tecnico in realtà quello che sta facendo su Chainsaw Man è dare importanza ad altre cose che non sono le scarpe per dire esatto esatto per dire per dirne una però cioè le scene d'azione ragazzi sono molto belle ma non solo quelle nell'ultimo nell'otto ci sono delle scene che ti fanno accapponare la pelle quindi sì effettivamente nell'otto la trama inizia a diventare molto più intensa ci addentriamo negli scontri nell'oscurità veramente veramente una figata c'è insomma Gilla Cane che ha scritto Pochita mio padre Pochita grandissimo il diavolo è troppo Denji un eroe è certo no veramente anche Denji cioè che cacchio di personaggio è ragazzi a me piace perché comunque è un manga estremamente scorretto se ci pensi fa anche strano che sia sulle pagine di Will Christian and Jump un manga del genere anche il fatto che è tutto basato sulla presa in giro del protagonista quasi perché proprio per questo specie di patto che fa inizialmente con Makima e per il fatto che si innamora viene sfruttato viene preso in giro da tutti quanti davvero davvero divertente per un motivo futile poi si va a raggiungere lo scopo nobile ma anche un po' nell'arco della storia di quello che succede anche con i diavoli che va a incontrare la scorrettezza un po' alla base di questo manga devo dire che è davvero un elemento estremamente originale che me l'ha fatto apprezzare di brutto poi adesso vi sparo il secondo che è un altro di quelli che sto apprezzando davvero davvero tanto allora ti dico questo Dani nonostante non amo le romcom Rent a Girlfriend lo sto leggendo attenzione lo sto leggendo perché mi son detto va bene che comunque un genere magari non mi appassiona eccetera però nelle mie letture almeno una lettura di quel tipo la voglio tenere e ho scelto Rent a Girlfriend perché è una cosa che proseguirà perlomeno alla lunga posso dargli una continuità e mi permetterà di capire meglio anche questo genere che generalmente proprio non mi fa impazzire lui è abbastanza allora vabbè di Rent a Girlfriend essenzialmente mi ha colpito il suo stile di disegno che è veramente assurdo cioè nel senso non ci sono regole c'è solo estetica e come disegna lui le ragazze così è veramente qualcosa di eccezionale secondo me in un modo molto fresco molto immediato esatto è un po' la linea di questi mangaka moderni giapponesi che effettivamente stanno tenendo questo stile di disegno molto pulito molto fresco con tanti dettagli anche nonostante tutto non sono mai troppo cariche le tavole però descrivono benissimo le situazioni anche a me ha colpito tanto sta cosa poi ti dico anche la trama no? perché la trama stuzzica un po' no? sì ma è quello che a me piace della romcom che stuzzica no? c'è poco da fare e poi lui è un idiota colossale quindi questo mi piace tantissimo cioè quando vede un sedere che va su la sua faccia diventa diventa veramente memorabile queste cose qua a me fanno ridere tantissimo ragazzi quindi proprio è una deformazione mentale che non so neanche come si sia formata ma è così ormai sono un po' gli stereotipi di queste opere magari quando c'è questa componente è un pochino fanservice un po' però ci sta è divertimento sul fanservice avrei delle cose da dire però comunque stiamo così dai comunque non è guarda su Rent and Girlfriend ce n'è poco in realtà di fanservice c'è proprio quello che serve e poi ci sono delle trovate adesso non so se hai avuto occasione di andare più avanti leggere la versione giapponese no no sono in pari con la versione italiana ok ci saranno cose molto molto belle a livello proprio narrativo a livello proprio narrativo vedrai che ci saranno dei punti in cui dici ma cosa sta facendo quindi fidati sono curioso io l'unico manga in realtà con cui sono proprio in pari col Giappone è One Piece perché è impossibile non esserci se no se ti becchi degli spoiler ovunque gli altri tendenzialmente cerco di seguirli con le città italiane altrimenti è impossibile leggere tutto no 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 infatti no l'altra sera Dani ho fatto un conto di quante serie in corso sto leggendo ed erano tipo più di 50 quindi 50 incasinata la cosa sei fuori 50 io non saprei da che parte iniziare ma un altro invece che so che ti piace è questo mamma mia io questo l'ho trovato geniale questo davvero è riuscito a fondere praticamente gli Spokon con i survival manga no? sì ma poi è proprio il punto da cui parte che è l'esatto opposto del punto da cui partono praticamente tutti gli Spokon tutti gli Spokon cioè è l'opposto cioè la squadra di solito è il trionfio dello spirito di squadra arriviamo insieme con la squadra con gli amici con la potenza del gruppo invece qua cancellato tutto e poi devo dire proprio che nel numero se non mi sbaglio 5 dove finisce questa prima fase e si capisce che cos'è successo anche lì gioco psicologico pazzesco senza fare spoiler ragazzi io dopo che ho detto il numero 5 ho detto no questo è geniale gli ha gabbati tutti sì ma anche cioè io mi sono chiesto subito ho detto ma come fa ad andare avanti così parlando di calcio senza parlare di squadra come come diamine fa e ho detto finirà presto invece no cioè io anche con questo sono abbastanza in pari col Giappone e ti dico che non smette di stupire cioè il numero 5 adesso mi sono dimenticato di quello che succede nel numero 5 veramente succedono delle cose che fuori di testa e quindi è una delle altre veramente quindi segui un sacco di manga tu anche in pari col Giappone beh perché non ne seguo 50 capisci e quindi posso un attimino aggettirmi con i pochi che seguo un altro che seguo è Zombie 100 Zombie 100 molto divertente mi è piaciuto subito dall'inizio proprio come come incipit cioè quindi continuo a seguirlo con grande goduria anche se si è un po' calato un attimino negli ultimi però ogni volta c'è qualcosina che mi fa prendere quello successivo quindi se impreve questa è una lettura più leggera divertente si sta comunque per intervallare dai esatto sì 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 e io sono sempre per le letture leggere teniamo presente questo io leggo anche cose angoscianti lo so lo so ma angoscianti va bene è il peso che cioè se mi metti un po' più di 57 baluna a tavola magari ecco lascio perdere e così poi un altro è il Nerd in Viaggio Zombie 100 top grande grande ma ci sono diversi ragazzi nella community che lo stanno apprezzando tanto io non lo sto seguendo te lo dico però spesso mi confronto con i ragazzi e in tanti lo seguono mi sta piacendo sì poi un altro che non so forse anche questo potrebbe essere una perla perché secondo me questo Savage Season Savage Season perché non lo sto seguendo raccontami qualcosa allora intanto è il mio genere preferito quindi si parla di amore adolescenziali ai tempi della scuola ok quindi è sempre quel misto di nostalgia e così che ti fa a me piacciono moltissimo le romcom adolescenziali perché c'è una potenza del sentimento pazzesca quindi e se sono se sono in grado di fartela percepire questa qui è un po' piccantina perché in realtà in realtà poi non è piccantina perché tutte le commedie adolescenziali vanno a finire nulla ok se alla fine c'è tutta questa hype e poi alla fine non succede niente niente però capisco che piacciono tanto ai giovani perché comunque come dicevi te se riescono a richiamare quei sentimenti quelle cose se li stai vivendo in adolescenza veramente le cose ti prendono e ti trasportano veramente all'interno del manga sì cioè io ti dico a me piacciono anche proprio a livello narrativo voglio capire come fanno a far sentire queste cose perché comunque non sono giovani quelli che scrivono è vero questi manga è quello che mi interessa dal punto di vista narrativo come fai a far provare quelle sensazioni alle persone e questo è veramente molto carino è la scoperta del sesso in pratica ma nel sesso così alleatorio diciamo che più parlato che fatto anzi proprio solo parlato da parte appunto di queste ragazze adolescenti all'interno del gruppo di letteratura del club di letteratura della scuola quindi ma è veramente veramente bello sono otto volumi e si conclude già concluso perché sono già usciti tutti sì 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 quindi quindi vi consiglio vi faccio questo consiglino carino molto carino poi ce n'è uno che so che e beh questo so che ti piacerà di brutto stai facendo incuriosire eh ma perché è uno dei tuoi autori super preferiti e quindi vabbè insomma non è proprio in corso però è quasi cioè è ancora in corso si può dire no sì il mio preferito Zutabu Takashi no no aspetta aspetta ho pagliato ho pagliato è questo è questo no 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 Albano aiutami Albano Albano aiutami in realtà le gemelline ho letto i primi due volumi ho letto i primi due volumi lo so volevo trollarti di brutto ma ci sta come ho detto sempre sulle romcom il discorso è sempre quello a me non mi fanno impazzire però capisco perché piacciono ai giovani alla fine sono tanti ragazzi che magari si trovano diciamo a quell'età magari critica che non hanno avuto magari tante esperienze amorose e quindi quello quello praticamente c'è cinque c'è cinque ragazze intorno che tutte le volte sono un po' di ammiccamenti e cose varie può essere un po' anche istruttivo può essere divertente guarda guarda un giorno ti convincerò che il primo capitolo delle gemelline è una perla nel mondo manga ma guarda sono convinto perché comunque un manga del genere ha il suo senso e lo capisco a pieno forse più avanti lo continuerò però bisogna che un attimo mi metto nel mood perché è complicato stavo scherzando comunque anche questo ovviamente è uno dei manga che sto seguendo l'ultimo il numero 6 devo dire che mi ha lasciato un po' basito sarà per la conclusione che non è una conclusione esatto però ci sono ancora quattro capitoli però comunque il manga non è concluso e in rivista al momento è in pausa perché Sottomut Akashi sta facendo altri due manga Guitar Shop Rosy e Jumbo Max Guitar Shop Rosy è un manga che sta facendo sulla musica apparentemente la storia di un negozio di chitarre che fa riparazione eccetera ogni volta ci sono questi personaggi che portano i loro strumenti a riparare e si vedono un po' tutte le vicissitudini di queste persone ma ci sono delle tavole bellissime dove c'è questo tizio che è tipo cover band dei Kiss che fa morire adesso se riesco a fartela vedere se la trovo perché mi ha fatto proprio morire da ridere quando l'ho visto eccolo 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 guarda qua guarda che roba fantastico 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 vedi sono proprio ecco le tavole fantastiche con questa pseudo cover band di persone di mezza età che cercano di imitare i Kiss fantastico spero che lo portino anche qui anche io e l'altro un altro manga che a me interessa molto perché si chiama Jumbo Max che è una storia che parla anche di droga eccetera è un po' un breaking bed del manga diciamo quindi molto interessante Tsutamu Takashi sembra che scriva delle storie per me io non lo so come sia possibile questa cosa però mi sono ritrovato dentro le sue storie più volte a trovare tante cose che magari facevano parte delle mie passioni comunque anche distaccate dal manga quando succede così è amore totale per un mangaka quindi alla fine è quello è quello Dani poi a me piace tanto proprio lo stia di disegno di Takashi perché a me piace quello stile sporco scuro molto molto bello devo dire io qui ho un suo sketch qui di fianco ogni volta che entro in camera mi fermo cinque minuti a guardare il suo sketch poi comincio a fare le cose che devo fare perché è tipo una religione che mi metto qua a contemplare tra l'altro è molto interessante il suo modo di lavorare se hai visto la puntata di Mambene spettacolare hai visto anche Urasawa si meraviglia di come fa anche a fare queste ombre in un attimo è giusto che si meravigli Urasawa fa le stesse cose da cento anni scusate breve frame su Urasawa poi lavora anche per esempio hai visto sugli sfondi un po' anche come fa Inyo Asano prendendo queste cose molto dettagliate poi andando ad aggiungere lui molte cose a penna alla fine è un modo bello moderno di lavorare per riuscire a dare anche un tocco molto realistico ad alcune tavole super super quindi non mi posso parlare di Takashi basta perché sennò parliamo per due ore di Takashi dopo non facciamo più la live non facciamo più la live a me è piaciuto anche questo diciamo cambiamento sul finale che sta avendo un po' l'opera con questo protagonista che ha preso una via tutta sua però secondo me molti sono rimasti davvero molto molto schiazzati ma se uno va a leggere un po' tra le tavole e cerca di capire quello che è veramente la sincronizzazione questo potere che ha questo ragazzo ogni cosa è pienamente giustificata quindi figata io non vedo che continui anche questo manga perché si sposano queste atmosfere oscure con quel periodo pesante anche del nazismo e anche questa parte teosofica che ha sempre fatto parte della cultura del nazionalsocialismo tedesco certo stop basta Takashi quindi ragazzi momento Takashi finito invece no vabbè basta that's one girl va io anche quello mamma mia tanta roba tanta roba il mio preferito forse va bene andiamo avanti perché sennò un altro dei tuoi preferiti comunque no dottor Stone vai Boichi ragazzi che vuoi dire Boichi dai eh niente non gli puoi proprio dire niente purtroppo visto come ha ridisegnato anche One Piece dei capitoli di me ho visto però molti si dimenticano del del povero sceneggiatore in realtà del dottor Stone ha fatto un lavoro mondiale poi tra l'altro ha lavorato anche con artisti super perché ha fatto anche High Shield 21 insieme a Yusuke Murata sta facendo un altro manga con Ryuichi Kegami che uscirà per Star Comics Trillion Game quindi cioè ha lavorato con signori disegnatori ma infatti ma infatti si vede secondo me se avete letto il il one shot quello fatto da Boichi sul passato del del dottor Stone quindi sul passato di un padre esatto reboot secondo me si vede la differenza fra la cosa che ha fatto solo lui e la cosa in cui dietro c'è uno sceneggiatore su reboot c'è un gran lavoro un gran studio che ha fatto Boichi sulla parte diciamo del futuristico astronavi eccetera lo vedo più un esercizio di stile che venga a sé diciamo esatto poi sul finale va a riprendere alcune cose logicamente della trama però in generale lo vedo più come un esercizio di stile infatti infatti è che lui era intrippato e ha detto adesso faccio una roba tutta scientifica che piace a tutti ma Boichi insomma vabbè e poi altre cose vabbè adesso basta perché sennò stiamo qui a parlare perché comunque leggo tanto devo leggere tanto ci fa piacere parlare anche di queste cose anche vedere che chi lavora nel manga legge tanto e sapere anche cosa sta apprezzando al momento perché anche vedere che comunque stai apprezzando tante serie che piacciono anche a noi per noi è un piacere perché capiamo che anche il tuo lavoro sarà ispirato da queste cose e sicuramente la prossima volta che vremo a vedere quello che fai andremo a ricercare se c'è qualche cosa che è presa da quest'opera dai dai facci una carrellata con lui c'è qualcosa che ti è rimasto una carrellata e poi passiamo alla cosa successiva Urasawa che bisogna per forza prenderla ma io comunque ti dico Urasawa mi piace ma non è tra i miei autori preferiti no neanche nei miei neanche tra i miei e poi c'è lui che invece è uno dei grandi Tsukasa Ojo io dico sempre le donne di Tsukasa Ojo sono ma poi il concept di City Hunter ma ragazzi ma rendiamoci conto il concept di City Hunter era avanti vent'anni secondo me trent'anni quando l'ha fatta poi il manga è un po' più come di Gerus è un maestro insomma esatto e poi come dire il manga è anche un pochino più esplicito rispetto all'anime sono molte battute anche un po' più sessualizzate quindi è anche molto più divertente sì 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 e poi sto recuperando lui Metal Alchemist dei Romo Aracawa ragazzi esatto una versione vecchia perché mia moglie è grande fan a tutte quelle vecchie e quindi le sto recuperando piano piano e poi ancora Jagan Jagan piace molto anche a me devo dirti la verità piace parecchio dal 10 poi magari un pochino spentino il ragazzo è ormai in conclusione secondo me molti autori quando devono chiudere il manga forse è la parte più difficile andare a chiudere un manga è la parte più difficile quindi capisco anche che si rischia un po' di perdersi sì e poi altro manga in chiusura The Demon's The Destruction di Asano che è il manga di Asano forse che preferisco e secondo me rimarrà una delle pietre miliari sue io devo ancora leggerlo devo ancora leggerlo perché ancora c'è un po' di cose che mi sono letto di Asano io ho amato da morire Solanin perché ci sono metà delle cose che sono successe nella mia vita quindi ho praticamente pianto per tutto il volume perché ogni cosa mi ricordava qualcosa che mi era successo mi ha smosso delle cose dentro incredibili fondamentalmente il potere di Asano è anche quello che per quanto le sue cose psicologicamente a volte sono abbastanza truci e malate quando ti è successo qualcosa di simile riesce a ritrovarti come mi immagino che una storia come Rei Raku può essere importante per tantissimi mangaka perché racconta un po' anche magari quando uno ha finito un'opera magari importante quello che si prova alla fine anche il senso di smarrimento il dover ricominciare con qualcosa di diverso anche dal punto di vista professionale ha raccontato un po' il suo la sua vita dopo Buonanotte Pum Pum insomma eh sì tutto è molto interessante la roba di Asano invece proprio parliamo di questi mangaka parliamo di carriere parliamo di cose voglio sapere tu la tua strada come sei arrivato fino a qua cosa hai combinato per arrivare fino a qua porca da dove iniziamo la passione per disegnare come è nata innanzitutto ah beh beh la passione per disegnare l'ho sempre avuta questo te lo posso dire ho dei disegni che testimoniano che sono che sono stato un mecha designer all'asilo quindi ti dico fin dall'asilo ho sviluppato comunque questa passione poi però in realtà il momento in cui c'è stata la svolta è stato sempre stato un appassionato di fumetto di qualsiasi genere la svolta c'è stata in università al terzo anno ero lì ho letto un fumetto era un fumetto era un Nathan Never un Nathan Never gigante quindi una cosa che adesso probabilmente non mi piacerebbe neanche più ma allora quando l'ho letto ho detto no ma io voglio fare sta roba cioè io voglio fare sta roba allora ho mollato l'università ho detto fanculo gli esami che ho già dato non me ne frega niente cosa stavi studiando stavo studiando geologia oh geologia sì fra l'altro mi piaceva anche tutto sommato cioè non è che se avessi dovuto scegliere probabilmente avrei riscelto geologia ma non era non era quello non era quello hai mollato tutto e dove ti sei buttato ho fatto la scuola del fumetto di Milano e dopo ho iniziato a lavorare come storyboardista all'inizio fra l'altro per un film d'animazione che non è mai uscito purtroppo perché se no mi sarei bullato per 50 anni e invece niente non è non è riuscito a trovare i fondi per finire e quindi il nostro lavoro è rimasto lì con un punto interrogativo questo è un grande peccato comunque Dani perché in Italia secondo me sull'animazione c'è una wave importante che purtroppo non riesce a trovare i soldi per i grandi progetti e l'abbiamo visto anche recentemente con la serie che c'è stata per esempio di Zero Calcare che è stato qualcosa di davvero carino e davvero originale forse un progetto che era così mainstream come quello di Zero Calcare è riuscito ad arrivare anche con un gruppo tutto italiano finalmente anche su una piattaforma importante spero che possa servire anche da esempio perché questo è un bellissimo mondo che in Italia esiste ma che purtroppo fa fatica a venire fuori sì io questo l'avevo fatto veramente tanto tempo fa vabbè non dico neanche quando perché sennò vi prendete male sono così giovanile che non pensate che abbia così tanti anni quindi facciamo perdere quando l'ho fatto però da quel momento lì in poi ho lavorato ovviamente ci ho messo un attimino per entrare nel mercato ma un anno dopo o due anni dopo la scuola ho avuto la fortuna di conoscere un autore un disegnatore che lavorava per l'America e subito abbiamo iniziato a collaborare insieme io coloravo i suoi disegni quindi sono entrato nel giro dei coloristi e siamo da lì in poi dopo un paio di numeri che abbiamo fatto con una casa editrice che era la Devil's Dew Publishing che faceva i G.I. Joe siamo entrati poi in Marvel e quindi da lì insomma è iniziata sei entrato dalla porta principale sei entrato in pratica sì abbiamo fatto tante robe per la Marvel alla fine io ero il colorista di Stefano Caselli che è una big della Marvel e penso lo sia ancora anche se si limita alle cover e a poche cose però è stato un periodo molto importante della mia vita perché mi ha aiutato a crescere tantissimo anche colorando si cresce lo stesso anche come disegnatori alla fine e quindi i progetti che ho fatto dopo come disegnatori Graphic Novel per Marsilio e così sono stati molto molto aiutati da quell'esperienza in Marvel poi ho cambiato sono tornato in Italia ho fatto robe per Labonelli e però era il 2017 nel 2017 io ho guardato indietro nella mia vita ho detto ma quali sono i miei fumetti che mi piacciono di più e tutti i tre fumetti che mi piacciono di più quali sono ed erano tre manga allora e allora ci vuole la svolta allora nel 2017 veramente si viveva un periodo un po' oscuro all'interno del mondo del fumetto nostrano io onestamente non riuscivo a vedere un futuro e quindi ero un po' preso male diciamo la verità e quindi forse è stato quegli anni lì sono stati anche un periodo un po' di magra in generale anche per il manga c'era stato un po' un interessamento che era un po' scemato in quegli anni sì e non è che non lavorassi perché ho continuato a lavorare per case editrici però non vedevo un futuro cosa che invece per esempio adesso vedo perché ci sono così tante cose che nascono interessanti che veramente adesso sono esaltato nel fare quello che faccio ai tempi ero un po' preso male e quindi ho detto vabbè sai che faccio mi dedico al manga e tu devi essere ancora preso male in realtà perché cioè nel senso che ai tempi tu devi capire che quando io ho studiato alla scuola del fumetto i miei professori mi dicevano quella è merda non fare quel di non fare quello perché non lavori ok dopo e io ho vissuto con questa convinzione che poi era abbastanza realistica ai tempi non si viveva con il manga ai tempi effettivamente chi lavorava lavorava per Bonelli che c'era insomma pagavano bene insomma quindi era quello il modo di lavorare e quindi però ho deciso di dedicarmi essenzialmente a quello che mi piaceva fare ho sempre deciso in questa maniera siamo arrivati da anni praticamente dal scegliere il manga arrivare quasi praticamente ora a insegnarlo no? oh sì con Luca manga school io ho avuto il piacere di visitare la scuola quando ho stato a Luca comics quindi è stato un piacere grazie ancora per l'invito che mi ha dato Caterina siamo stati lì abbiamo visto tutta la struttura ci siamo fermati a cena siamo andati anche a dormire che ci ha ospitato addirittura realtà incredibile dove lavori dove immagino che spendi tanto tempo della tua vita perché comunque penso che insegnare sia veramente una parte importante anche di questa carriera che hai scelto no? sì lo è diventata negli ultimi tempi devo essere sincero ho sempre insegnato però in accademia con ore settimanali veramente limitate invece adesso comincia a diventare importante Luca manga school è diventata una realtà incredibile in grande crescita quanto mi raccontavano corsi tutti pieni davvero super interessante e come sta andando questa esperienza con Luca manga school? molto bene direi ci siamo subito trovati bene insieme già da qualche anno che insegno da loro e i corsi online ho iniziato a fare i corsi online assieme a loro e sono subito andati molto bene quest'anno sto seguendo i ragazzi del biennale perché c'è anche ovviamente un percorso più lungo li sto seguendo al secondo anno aiutandoli a portare alla fine dell'anno un loro manga personale quindi un one shot essenzialmente di 24 tavole e devo dire che secondo me anche voi ne vedrete delle belle nei prossimi anni perché sono bravini questi ragazzi che sono io sono molto curioso perché queste cose sono queste cose belle innovative poi credo che un progetto come una one shot sia veramente una cosa ambiziosa perché arrivare con un progetto del genere non è semplice perché magari uno si è portato dietro tante idee le idee della vita cose che vorrebbe realizzare invece forse non è proprio il momento giusto per andare ad utilizzare quelle bisogna cercare di concretizzare con qualcosa che sia comunque ad effetto ma che possa esserlo in un numero di pagine molto limitate secondo me è difficilissimo è difficilissimo però allo stesso tempo è il punto di partenza se riesci a gestire 24 tavole poi riuscirai a gestire qualcosa di più lungo se invece non riesci a gestire neanche 24 tavole è difficile che tu riesca a gestire una serializzazione per dire visto che ci sono dei nuovi adesso ci sono delle nuove diciamo così dei nuovi canali in cui la serializzazione comincia a diventare importante quindi è un ottimo esercizio questo Luca Manga School che non è solo un esercizio perché poi alla fine quando hai la tua storia hai un editor che ti visiona è un biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro è proprio così e mi piace molto questo secondo anno di biennale in effetti quindi è stimolante anche per te immagino vedere anche tutti questi ragazzi che buttano tutta la loro fantasia in queste tavole per tirare fuori la prima opera e hai una responsabilità importantissima esatto e questo è il punto ce l'ho in effetti e a un certo punto in effetti comincia siccome ci sono tantissime tipologie di manga e io francamente sono esperto della narrazione del manga della tecnica manga ma se tu mi dovessi venire a dire io voglio fare un manga slice of life in cui non succede niente azz ecco lì sono azz lì come faccio io a dirti che cosa devi mettere se non succede niente se non ha regole perché è un manga slice of life non ha regole non ha regole fortunatamente non sono venuti da me con una cosa di quel genere lì quindi diciamo che siamo nel mainstream ecco ok se c'hai qualche cosa di qualche shonenazzo un po' battle qualcosa del genere molti secondo me arrivano da quella wave lì si sono innamorati del manga con questi titoloni diciamo che hanno fatto un po' anche la storia qui da noi in Italia e quindi immagino che l'ispirazione a Dragon Ball Naruto anche Hunter Hunter tutti questi manga battle manga storici you degli spett ne puoi sentire fuori quante ne vuoi e anche quelli moderni perché comunque ancora continuano ad andare fortissimi ma Hero Academia Jujutsu Kaisen ce ne abbiamo davvero davvero tanti e comunque è una serie diciamo una parte del manga molto mainstream che in Italia continua a vendere da morire fare forse i numeri più importanti che abbiamo visto che nelle classifiche di vendita dei libri ultimamente comincia ad apparire spesso anche in manga One Piece Dragon Ball My Hero Academia Tokyo Revengers cioè è quasi incredibile poi per carità sono numeri un po' strani perché comunque vanno a riprendere soltanto le vendite da certi tipi di canali quindi probabilmente sono addirittura più alti però prima non c'erano però prima non c'erano quindi direi che è già un bel passo avanti è vero che gli studenti sono condizionati da questi manga però adesso sta arrivando una wave ancora più avanti nel senso che è gente che ha letto più di quello e soprattutto quelli che arrivano esatto soprattutto quelli che arrivano al secondo anno tengono duro e vogliono andare avanti sono quelli che hanno letto tanto e quindi le loro storie non sono così vorrei dire banalotte da copiare da questi manga qua ma hanno degli spunti veramente interessanti che vanno al di là dello shonen o del battle shonen per arrivare su altri territori un po' meno esplorati e più interessanti secondo me proprio perché hai seguito tanti ragazzi volevo chiederti prima di parlare di questa nuova wave che mi interessa tantissimo se qualcuno venisse da te e ti chiedesse un consiglio importante per iniziare il consiglio più importante che daresti qual è? anche questa è una grande responsabilità allora te la devi portare addosso perché tu hai le responsabilità lo insegni ho le spalle larghe hai le spalle larghe lo vogliamo il consiglio ma allora il consiglio è non mollare questo è il consiglio che non mollare vuol dire che se devi fare un tot di ore al giorno di disegno non mollare falle ed è l'unico modo per andare avanti e crescere quindi costanza costanza impegno costanza impegno e poi non pensare che il fumetto sia solo disegno che è un errore che fanno tantissimi cioè il fumetto il manga non è solo disegno anzi diciamo che il disegno viene pure dopo come testimoniano alcune opere perché a volte vedi delle cose disegnate benissimo che però non ti lasciano niente quindi ma certo quello fa un effetto terribile fa un effetto esatto e viceversa vedi delle cose che tutto sommato sono disegnate un po' a cazzo però in realtà porca miseria ma sai che è bella la storia guarda che ti convinco guarda che lo continuo anche attacco on titan ascolta cioè è l'esempio lampante ma non solo ma anche flower of evil cioè i fiori del male ovviamente non c'è una tecnica di disegno eccelsa ma non riesce a staccarti non riesce a staccarti l'attacco dei giganti secondo me è pazzesco perché Isayama poi se guardavi il capitolo iniziale che aveva fatto pilota dici l'editor che è riuscito a vederci qualcosa dentro deve avere un talento incredibile perché anche un po' di culo immagino perché no però è così effettivamente sì 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 all'inizio poi dopo col tempo è anche migliorato perché se vedi le cose poi che hai disegnato poi sicuramente anche il fatto di avere anche degli assistenti tutto quanto anche degli editor perché molte cose secondo me sono state gli editor a guidarle all'interno di Attack on Titan come giusto che sia perché gli editor sono parte integrante della della catena però diciamo Isayama era uno che aveva una visione aveva una storia e l'ha raccontata alla grande questo è il punto anche quello fondamentalmente la cosa vincente più del saper disegnare infatti questo è sicuramente quello che gli direi subito se tu vuoi fare fumetto se tu vuoi intraprendere la carriera del mangaka per disegnare ripensaci fai l'illustratore che è meglio ok se non tu devi avere qualcosa da raccontare alla fine ogni tanto fai anche l'illustratore ti disegni tutte quelle illustrazioni dei robotoni quello è lavoro di illustrazione tra l'altro ho visto che tra l'altro hai fatto il bundle sul tuo sito con tutti i libri dei robotoni mi sta tentando io un po' di giorni che sono lì che adesso mi sa che me lo prendo perché lo voglio quindi ti metto dentro un sacco di di extra no tra l'altro volevo dirti c'è anche adesso il primo volume di Rock and Punch Rider disponibile no? sì allora ancora non è ufficiale perché l'arrivo di di Senpai Plus nelle nelle librerie e nelle edicole attenzione è il 26 il 26 è l'uscita ufficiale però in realtà è già possibile acquistare il volume sul mio sito o sul sito Manga Senpai allora farò un ordine cumulativo bisogna che faccia un ordine cumulativo fai fai nei prossimi giorni mi sa che ti arriverà un ordine cumulativo perché è un po' che ci guardo effettivamente ho passato tante sere magari in silenzio senza dire niente a guardarvi mentre disegnavate i robottoni perché mi sono divertito un casino quindi è un bel ricordo che voglio assolutamente tenere lì parliamo di questa nuova wave del manga italiano visto tutto questo interesse che c'è per i manga in Italia e tanti ragazzi che si affacciano comunque con le loro opere o che stanno studiando per arrivare al pubblico quindi tu pensi sinceramente che ci sia questa nuova wave visto che stai vedendo i ragazzi giorno per giorno ma secondo me sì è proprio evidente cioè io in questo momento sono stupito guardo il mercato e ho veramente lo stupore negli occhi perché non avrei mai pensato che ci potesse essere una rivista adesso e che potesse avere successo cioè non ci sono riviste dagli anni 80 in Italia cioè non ci sono riviste mainstream ed è incredibile che adesso possa esserci una rivista e possa avere il successo che sta avendo è pazzesco secondo me stiamo vivendo un momento storico che secondo me verrà ricordato io ho sempre apprezzato il progetto sin dall'inizio infatti a Fabrizio gli ho sempre fatto tanti complimenti sin da quando mi aveva illustrato l'idea iniziale quando è partito con il numero zero gli ho sempre spinto tanto a dare un'occhiata alla cosa perché è una vera rivista che come mancava da tanti anni ok forse noi che siamo un po' più grandicelli che le riviste le abbiamo tenute in mano anche in passato avevamo il piacere anche magari di leggere l'editoriale di leggere la rubrica anche quando leggevi manga avevano un senso di rivista perché c'era la posta c'era la corrispondenza cioè anche i tanko bon avevano qualcosa della rivista e effettivamente dentro un progetto come sempre i plus ho ritrovato questo prima di tutto è un contenitore che ha saputo aggregare che è una cosa veramente bella ma poi è una vera rivista io adesso senza sminuire altri progetti altre cose che ho visto però non mi hanno dato le stesse vibes che ho avuto quando ho preso in mano sempre i plus esatto ma anche capire un attimino che non è uguale a Shonen Jump è la nostra versione di Shonen Jump e quindi è molto diversa perché noi abbiamo una cultura diversa e abbiamo anche dei pregressi diversi cioè le riviste che abbiamo avuto in mano erano diverse una roba come Shonen Jump da noi sarebbe un suicidio un suicidio ma a parte il fatto che pubblicare settimanalmente tutte quelle tavole è impossibile per i nostri autori e soprattutto per la cura che ci mettono ma anche la qualità della rivista in sé è imparagonabile prendi un weekly Shonen Jump in mano e carta straccia prendi in mano Senpai Plus è qualcosa di bello da avere come dice i nerd in viaggio a me non è fatta con carta straccia esatto no perché il concetto è completamente diverso cioè la prendono la rivista la leggono la buttano nel cestino sì è vero qua no cioè nel senso quando è che buttiamo un nostro fumetto cioè non buttiamo mai un fumetto mi sentirai in colpa a buttare una roba del genere esatto e quindi è il formato perfetto io l'ho detto tante volte Fabrizio è proprio il formato perfetto nel senso che leggi ma non leggi troppo cioè se prendi uno Shonen Jump leggi le prime tre che sono fighe le altre tre che sono semifighe gli ultimi anche no cioè gli ultimi della rivista francamente perché anche no io Dani mi ricordo bene come era stato sperimentato questo formato eh certo certo guarda io ce l'ho la versione io ce l'ho la versione grande di King of Wolves dove c'è la metà del primo volume delle pochissime copie che sono state fatte nel primo capitolo di King of Wolves questa me l'ha colpito tanto l'avevo presa addirittura subito dopo che avevate fatto tu e Fabrizio quella live da Kirio ai tempi proprio quella serie ma sai come sta cosa mi incuriosisce ma me la prendo subito e poi dopo mi ha raccontato effettivamente che proprio anche grazie a aver stampato questo manga in questo formato poi è partito anche il formato della rivista il discorso di stampare anche i manga così in grande quindi è stato un po' il precursore di King of Wolves sì 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 beh io ho la fortuna comunque di essere nella stessa città dell'editore di avere un rapporto con lui abbastanza di amicizia quindi quando mi propone delle cose io ci sto cioè infatti adesso parliamo dei tuoi manga no? parliamo di King of Wolves parliamo di Rock'n'Punch Riders due manga sono molto diversi tra di loro ma dove comunque si nota una certa passione per gli Spokon il primo è quasi un Battle Spokon l'altro è un manga action con una discreta componente anche mystery perché in alcuni capitoli mi hai lasciato davvero senza parole mentre stavo leggendo Rock'n'Punch Riders poi tra l'altro anche questi doppio capitolo con flashback che è uscito nel numero 5 mi è piaciuto parecchio numero 5 sì sì dove ci sono questi personaggi armati di pattini skate bici che danno vita praticamente a questi combattimenti che si fondano parliamo di trick migliori che si possono fare con questi con questi diciamo aggeggi no come è nata innanzitutto l'idea per questi due manga diversi voglio sapere e poi raccontaci magari un po' l'esperienza per realizzarli perché immagino che sia stata diversa da King of Wars dove hai lavorato comunque insieme a Fabrizio e Rock'n'Punch Riders che è una cosa completamente tua assolutamente beh intanto forse non tutti lo sanno perché qui in Italia in realtà si sono invertite le pubblicazioni ma io ho fatto Rock'n'Punch Riders prima di King of Wars ed è stata la mia prima esperienza manga e l'ho fatto con l'idea di sperimentare proprio tutto quello che era la tecnica manga dal lavorare proprio in tradizionale quindi le prime tavole del primo capitolo io le avevo fatte in tradizionale con gli strumenti del mangaka quindi G-Pen Fude Pen eccetera eccetera e poi a partire dal terzo capitolo ho iniziato a lavorare in digitale quindi dal 2017 essenzialmente lavoro in digitale sulle tavole di Rock'n'Punch Riders è iniziata perché te l'ho detto è quel momento critico della mia vita in cui ho detto io devo fare manga e allora mi sono cimentato subito con i tempi di produzione dei mangaka eccetera eccetera ero da solo ma il primo capitolo che sono 50 pagine io l'ho fatto in un mese intanto faccio vedere qualche cosa che hai disegnato mentre parli faccio vedere qualche personaggio di Rock'n'Punch Riders dal tuo account Instagram quindi se poi vuoi facciamo switch di cose ti faccio vedere anche un po' di tavole perché magari comunque come vedete il disegno di Daniele ha riprodotto anche alcuni personaggi dei manga che diceva prima abbiamo qui i personaggi di Dr. Stone qui ci sono tante anche di King of Balls e qui abbiamo poi Rock'n'Punch Riders che ci stava proprio raccontando ancora King of Balls magari Daniele se ci vuole condividere anche qualche tavola vediamo anche questo questa è la sfida per Sailor Moon così era quella che avevamo fatto per la cellula era la cellula di Sailor Moon che voglio dire ho deciso di sì ci sono un po' di cose perché riguardano anche altri progetti che sto facendo essenzialmente il mio Instagram è solo manga robottoni con qualche cosa di diverso però essenzialmente è stato quello insomma aggiungo il tuo schermo così puoi far vedere sì ok beh intanto faccio vedere un paio di un paio di pagine di Rock'n'Punch per Rock'n'Punch l'idea era quella di fare uno shonen ma siccome io ai tempi stavo guardando Seinen in realtà è venuto un po' un ibrido ok infatti tutti questi neri questi personaggi fra l'altro questo personaggio è ispirato ma molto lontanamente al protagonista di The Climber che adesso sta tornando in una riedizione mi sembra io ho rotto le valle non sai quanto per quel manga perché è uno dei miei manga seinen preferiti quindi assomiglia un po' a Buntaro Mori effettivamente di The Climber era proprio quello il mio punto di riferimento anche se poi hai preso anche proprio l'ambientazione con la neve addirittura sì esatto è proprio per quello ho detto sono sulla neve come lo faccio sto tizio facciamolo come un Taro Mori che comunque ci sta e quindi abbiamo ho fatto una specie di mix e ti devo dire che come stile e come tempistiche di realizzazione mi è sembrato davvero di riuscire a avvicinarmi tanto alle tempistiche di produzione di un mangaka di un mangaka perché lo stile mi permetteva di andare a inchiostrare direttamente sugli storyboard non facevo neanche le matite quindi facevo gli storyboard e andavo subito di inchiostrazione e l'inchiostrazione rimaneva molto fresca molto veloce molto molto seinen in qualche modo e mi piaceva molto mi piace ancora mi piace ancora molto come tipologia di lavoro per esempio questa è una delle mie tavole preferite action pura ovviamente perché era quello che mi interessava fare a me interessava disegnare gente che si svarzellava con gli skateboard e con le cioè non è che però effettivamente Dani all'inizio il manga sembra proprio così sembra qualcosa che parte con molta azione si capisce che c'è un conflitto che c'è qualche cosa però non sembra niente di particolarmente profondo eccetera però poi comincia a succedere delle cose e uno dice ma come quasi resti spiazzato perché si nota effettivamente questo passaggio che tu mi hai detto dall'idea iniziale un pochino più shonen più leggera più semplice a qualcosa comunque di più complesso più strutturato in realtà poi c'è un tema di fondo che però non voglio spoilerarvi voglio che andiate un attimino avanti a scoprire piano piano è bella questa questa l'ho amata bellissima questa è una trambata di quelle proprio che si ricorda per tutti i tempi e niente quindi mi è piaciuto molto sviluppare questo manga e all'inizio doveva essere un manga di amplissimo respiro avevo programmato di iniziarlo e di non sapere quando finirlo proprio come un mangaka essenzialmente che sa quando inizia ma non sa quando finisce e non sa neanche come finisce perché una cosa che forse non in molti sanno è che i mangaka iniziano a disegnare la propria storia con un'idea abbastanza vaga vaga tutto sommato senza avere un'idea di come andranno avanti e avendo una vaga idea forse di come andranno a finire e io volevo fare esattamente la stessa cosa e e quindi niente insomma secondo me è anche molto stimolante dal punto di vista artistico ti metti in gioco in modo molto importante costruire la storia magari adesso c'è la rivista che te lo permette fare capitoli e costruire la storia magari mese per mese ma una volta darsi un obiettivo del genere è stato qualcosa davvero di ambizioso e fra l'altro qui vedi vabbè questa è la bellissima la cover dello zero dello zero con dei colori diversi questa è ancora la cover che se io avessi avuto io questo progetto l'ho sviluppato da prima come indipendente ok e solo adesso vengo pubblicato sulla rivista perché mi ha chiesto ovviamente Fabrizio se volevo ripubblicare Rock and Punch giustamente io ho detto sì perché comunque tu puoi arrivare a un pubblico molto più vasto di quello che ho raggiunto io hai anche la possibilità magari di rimettere le mani su alcune cose di migliorarle perché comunque quando vai su media diverso puoi aggiustare anche il capitolo per farlo apprezzare comunque a livello massile quindi ci sta e in realtà poi avevo già settato i capitoli perché sai volendo replicare esattamente quello che facevano in mangaka io avevo già settato i capitoli da tot pagine quindi sono praticamente 20 pagine alcuni ovviamente un pochino di più però era già così hai avuto già la visione hai avuto sì ma ai tempi guarda c'è una storia dietro questo però non andiamo troppo troppo fuori fuori in chat ti chiedono disegnare il contrario com'è per te che magari prima avevi lavorato su altre cose com'è stato ma allora essendo sempre stato lettore di manga non ho avuto grossi problemi ok un po' perché avevo in mente come si raccontava il contrario perché avevo letto molto un altro po' perché avevo sono sempre stato abbastanza appassionato del linguaggio del fumetto e quindi sapevo quali erano le cose che dovevo cambiare e invertire nel momento in cui invertivo il senso di lettura e quindi alcune cose sono ancora sbagliate in Rock and Punch per esempio il posizionamento dei Baloo una volta è ancora un attimino era ancora un attimino sbagliato ok perché ero alle prime armi e mi approcciavo a un linguaggio che avrei scoperto totalmente diverso ma per quanto riguarda la narrazione non ho mai avuto grossissimi problemi e quindi insomma questo era ed è tuttora Rock and Punch le cose più belle devono ancora uscire ovviamente perché saranno serializzate all'interno di Senpai Plus e gli ultimi capitoli sono quelli in cui la mia tecnica è migliorata davvero molto rispetto all'inizio potete vederlo proprio adesso la storia l'hai chiusa come la storia è chiusa il primo arco narrativo è chiuso esatto e riempirà tutti i primi 12 volumi di Senpai Plus e dopodiché quindi sono due tankobon sono tre sì sono in realtà tre volumi tre volumi ok sono tre volumi leggermente più piccoli di un tankobon ma cioè il primo no il primo è spesso come un tankobon e anche il terzo solo il secondo è leggermente più più stretto però sono tre volumi in tutto ok ok figata figata adesso è molto curioso perché mi sta piacendo parecchio quindi anche vedere questa evoluzione sarà molto molto bello sono convinto sì ti dico lo percepisco io che il primo capitolo ovviamente molto era la prima esperienza che avevo e andando avanti ho visto che ho veramente raggiunto degli obiettivi man mano che andavo avanti di capitolo in capitolo la cosa bella è che avendo un'esperienza nel mondo occidentale la storia e in particolare i fili della storia si collegano si collegano tutti ma non si risolvono subito quindi se voi leggete il primo capitolo e dite eh ma ci sono un sacco di cose che non dici sì ci sono un sacco di cose che non dico arriveranno perché arriveranno ok il concetto è quello insomma volevo creare qualcosa che appassionasse ma senza riempire di dettagli sul mondo di dettagli che a me hanno sempre rotto i coglioni ecco e quindi volevo fare qualcosa di simile quindi basato un pochino più sulla trama sulla costruzione dei personaggi più che sul war building e cose di questo tipo esatto esatto soprattutto quello che interessava a me era la psicologia dei personaggi e quindi quello che hanno vissuto e come si sono trasformati in questo flashback che ha iniziato a venire fuori in modo importante la psicologia dei personaggi quindi si capisce bene se avete letto il volume 5 di Senpai Plus già si inizia a percepire alla grande quello che era successo nel capitolo prima un attimo mi aveva spiatato ho detto adesso cosa succede qua cosa sta cosa sta capitando però con questo con questo flashback ho capito che arriveranno cose certo fin quando ti spiazza io sono contento il mio scopo è quello di non farvi leggere qualcosa che vi aspettate ecco voglio farvi leggere qualcosa che non vi aspettate questo è l'obiettivo principale deve essere per chi racconta qualcosa sapere stupire anche il lettore sì sì vero ci sono poi diverse anche tipologie di pensiero c'è qualcuno che vuole dare il dettaglio perché al lettore medio piace il dettaglio gli piace capire come funziona lo zaino con Titan e così a me è sempre fregato niente cioè fammi vedere che passi da un da una casa all'altra fai delle cose assurde che ti scontri con il gigante che tiri fuori le tiroette vai e ti tagli con le lame a tutto andare che mi frega cioè boom è figo mi piace così ecco questo è un po' il mio modo di invece per per king of balls la cosa è stata diversa perché mi sono approcciato con una con una visione proprio diversa non ero più io che facevo quello che volevo ok io comunque ti dico subito che appena ho preso in mano king of balls ho letto i primi capitoli per la prima volta ho percepito un manga che era molto vicino al a quello che è un manga giapponese proprio l'impressione è stata quella perché c'erano tutti gli elementi che troviamo in manga di questo tipo giapponesi dall'azione comunque anche un certo tipo di costruzione della trama un certo tipo di personaggio ma soprattutto anche quel po' di fanservice che comunque c'è sempre quindi mi ha subito come ho detto quanto è giapponese questo manga italiano ho detto la prima volta che ho preso in mano a king of balls l'idea era quella quando ci siamo confrontati io e Fabrizio l'idea di king of balls è venuta da lui nel senso che lui è appunto il diciamo così l'autore della trama a grandi linee di king of balls in pratica cosa è successo che lui per il primo volume in realtà mi ha dato uno scritto ok non era una sceneggiatura erano proprio era un racconto scritto e ha detto fai tu cioè gestisci tu la scansione della storia dei capitoli eccetera eccetera il vero re delle sfere quindi l'hai adattato praticamente da uno scritto l'hai adattato a manga praticamente sì esatto esatto ha fatto un lavoro bello tosto un lavoro tosto soprattutto perché non l'avevo scritto io e quindi molte cose per esempio anche il personaggio sul subito non mi era chiaro e infatti durante la lavorazione nello storyboard io andavo a fare il personaggio con con degli atteggiamenti troppo shonen ok troppo eroistici mentre Fabrizio diceva no guarda che non è così il personaggio non è così devi fare così e a me sembrava strano poi dopo un po' mi sono abituato questo personaggio che è strano sì sì sembra passivissimo poi in realtà quando si muove ha tutte delle movenze sue ed è davvero particolare esatto era proprio quello che mi quello che mi ha fatto lavorare di più era entrare nella testa di Fabrizio no perché effettivamente lavorare in due è molto difficile è più difficile sicuramente ma è anche ti dirò raggiunge anche dei risultati migliori risultati importanti insomma risultati importanti bravo risultati importanti qui abbiamo due belli argomenti in questa tavola esatto esatto perché comunque in due lui mi faceva notare le cose che non andavano bene cose che per me invece andavano benissimo e io viceversa adattando il suo scritto ho ranzato via delle parti che erano fuori contesto li ho messi insieme ho rimescolato le cose la cosa bella dei due volumi di King of Balls è che tutto è collegato sono contenuti in un cofanetto sono un unicum ve lo faccio vedere perché ce l'ho qua eccole lì il cofanetto è questo super carino con i due volumi super poi tra l'altro anche questo potete comprarlo sempre sul sito di Manga Senpai ragazzi e questo c'è anche lo sketch di Dani ecco questo cioè la cosa che mi rende mi rende orgoglioso di aver intanto è aver finito i due volumi perché comunque ragazzi cioè finire i due volumi non è così semplice soprattutto con un diciamolo pure con una cura per esempio per determinate cose che su cambiando completamente stile perché non so se avete notato ma è cambiato completamente lo stile lo stile è molto diverso sfondi ambienti tutto molto curato cioè mamma mia tutto diverso vestiti ti piace farli perché sui vestiti ci lavori un sacco vedo anche i personaggi sono sempre i vestiti sono molto curati sì quello mi piace molto ed è tutta farina del mio sacco mentre per quanto riguarda gli sfondi mi ha aiutato mi hanno aiutato due assistenti che ho preso dalla Luca Manga School quindi ancora una volta mi sono cimentato un attimino anche con il lavoro di gruppo hai fatto fare anche esperienza a qualcuno immagino Matteo Manca Michel Tavano mi hanno aiutato moltissimo durante proprio tutta la stesura dei due volumi io ho sempre fatto i personaggi mentre loro mi hanno aiutato con gli sfondi e con i retini quindi ovviamente io gli davo delle indicazioni proprio come fa il manga con gli assistenti insomma è stato molto interessante e niente essendo così diverso lo stile mi ha preso anche più tempo realizzarlo e rispetto grande soddisfazione che poi porti a conclusione un'opera cioè alla fine hai messo in quello scaffale finalmente un'opera conclusa un'opera che funziona perché effettivamente è una cosa che funziona che è bella che è originale perché io ho anche quella componente scientifica con le formule matematiche con la fisica l'ho apprezzata tantissimo e beh immagino quindi è stato veramente mi ha colpito proprio per originalità e tutto cioè davvero ho trovato proprio un esempio quando devo fare un esempio un manga italiano che mi è piaciuto un sacco e devo consigliare e dico ragazzi c'è il cofanetto King of Walls due volumi compratelo cioè che cosa ci vuole guardatevi qualcosa di veramente bello di davvero originale perché quello è davvero una cosa che mi è piaciuta e è bello anche che ci sia un'opera italiana conclusa così in due volumi secondo me anche per i content creator per le persone in generale per consigliarlo e per far approcciare anche i giovani con qualcosa di breve e significativo che possano far capire che in Italia c'è veramente tante cose che valgono insomma poi da lì può essere un apripista secondo me uno ha una cosina così guardalo apriti il mondo del manga italiano guarditi questo poi magari ti piace prendi anche la rivista guarda anche la rivista che cosa c'è perché comunque sono tante cose interessanti guarda quanti artisti ci sono nella rivista quindi questa è una cosa che sono proprio stato molto molto contento di avere sì la soddisfazione guarda è incredibile tra l'altro dopo un po' ne parlavamo con un'altra autrice molto importante comunque italiana ne parlavo e ormai dicevamo che la nostra soddisfazione ultima è quella di vedere il fumetto pubblicato ormai disegnare non ci dà neanche più tanta soddisfazione perché ovviamente è un lavoro quando lo fai ovviamente diminuisce un po' la passione che hai per quel lavoro perché devi farlo è un lavoro però alla fine quando vedi pubblicata l'opera lì è veramente forse proprio in questo frangente il progetto di Senpai Plus può essere importante anche a mantenere alta la motivazione perché pubblicando di mese in mese effettivamente uno ogni mese si trova pubblicato qualcosa di suo qualcosa di interessante assolutamente io volevo chiederti un po' come ti stai trovando a far parte anche di questo progetto che comunque è veramente una figata come stai lavorando un po' anche per portare quest'opera insomma sulla rivista mensilmente se stai riadattando qualcosa se stai sistemando anche qualcosa magari che non ti piaceva non lo so che avevi fatto prima oppure se stai riproponendo più o meno le stesse cose e poi voglio sapere anche se effettivamente si respira all'interno di questa rivista anche un po' magari quella sana competizione che c'è nelle riviste giapponesi tra i mangaka che magari può essere anche la chiave a lungo andare per far alzare il livello un po' a tutti quanti ed effettivamente tirar fuori il meglio da ogni autore guarda quello già sta succedendo non so se avete preso i primi volumi e comunque state andando avanti ogni volta che mi arrivi in anteprima il volume da leggere io mi stupisco della qualità che continua a migliorare di albo in albo adesso io ho letto appena letto il numero 6 ma ragazzi ma ci sono dei capitoli eccezionali secondo me e così sarà sempre perché man mano che si va avanti man mano che le skill di ciascuno di noi crescono è ovvio che cresce la rivista insieme a noi però c'è un bel clima non è neanche tanto il clima di di competizione come dicevi tu che è più una cosa forse giapponese che nostra nel nostro caso secondo me è un supporto vicendevole è qualcosa di diverso sappiamo anche il fatto di dire ma guarda guarda cosa ha tirato fuori lui voglio fare meglio anche io anche un motivarsi a vicenda voglio figurare anche io così bene la rivista poi dico sempre adesso c'è Musashi Sonny in chat dico sempre che mi ha tirato fuori delle tavole che veramente mi hanno stupito da grande battle manga ha tirato fuori delle tavole quindi secondo me su di lui ha fatto un effetto pazzesco perché ha tirato fuori delle splash page bellissime nell'arco di questi mesi quindi è stato veramente veramente forte sì sì assolutamente ma anche gli altri tutti quanti cioè stiamo veramente crescendo insieme io sono l'unico un po' fuori dal coro perché in realtà Rock and Punch l'ho già fatto è già finito e quindi questo mi dispiace un po' perché vorrei essere avere la stessa sensazione di andare avanti mese per mese all'interno dello stesso quindi non stai aggiustando più di tanto l'opera stai proponendo un po' così no è proprio una mia idea l'idea è lavoro su roba nuova quello che è fatto è fatto se no vado incontro alla sindrome di Ajiwara per cui vado a rifare tutto quello che ho fatto prima che non mi piace invece di andare avanti no non funziona così anche un manga non ha tempo di tornare indietro a rivedere le cose che non gli piacevano deve andare avanti deve consegnare cazzo e quindi ecco quello non lo faccio nel senso che quello che è Rock and Punch è ok ci sarà gente che lo apprezza per quello che è a gente che ovviamente non lo apprezzerà ma questo è normale nel senso che i gusti di ciascuno cambiano quindi è ovvio che non si può piacere a tutti a me interessa che quelli che sentono le mie stesse cose si sentano presi dal 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 manga secondo me c'è ancora c'è la possibilità cioè non è un manga vecchio ecco no no funziona ancora bene poi nel contesto della rivista secondo me è inserito bene perché io penso che il lettore della rivista non è che si aspetta anche tutto subito capisce che comunque è un progetto quindi se c'è anche una crescita all'interno del tuo manga comunque come hai detto lo hai fatto in diverse fasi c'è una crescita tua personale artistica sicuramente verrà apprezzata mano a mano nel tempo e magari quella crescita che gli altri stanno mostrando in questo momento all'interno della rivista da te verrà in modo naturale perché hai fatto un percorso che comunque ti ha portato fino a lì quindi sta bene anche in una rivista del genere magari ci sono anche alcuni autori più giovani che si stanno mettendo in gioco da questo punto certo poi aveva anche un senso a livello editoriale perché Fabrizio mi ha detto io ti sarò per sempre grato che mi hai dato Rock and Punch che alla fine era la mia creatura Rock and Punch io non l'ho data a nessuno mi hanno fatto delle proposte a altre case editrici io non l'ho venduto a nessuno perché era la mia cosa ok era una cosa che volevo ottenere mia però di fronte a questo progetto quando Fabrizio me l'ha chiesto non ho avuto dubbi anche grazie alla fiducia che ho nei confronti della case editrice e nei suoi confronti a livello editoriale ha il suo senso perché è l'unico che può esserci in tutti i numeri perché è già finito quindi è già pronto ti dà anche una certa certezza c'è una certezza nel senso se qualcuno magari rimane indietro con qualche tavola ti dà la possibilità anche di coprire cioè quello è l'importante esatto e quindi cioè nel senso sono veramente molto contento di essere all'interno di questo progetto è una cosa secondo me che non ha precedenti te l'ho detto e è veramente veramente mi sembra di far parte della storia in questo periodo no ma è giusto cioè ne fai pienamente parte perché questo è davvero un progetto bellissimo che spero che continui a crescere come sta facendo perché vedo sempre più persone coinvolte all'interno vedo sempre personalità che tra l'altro conosco mi fa piacere trovare nella rivista perché poi tra l'altro ci sono amici cioè è diventata veramente una grande famiglia sì sì da questo punto di vista mi sta piacendo proprio un sacco e la sto apprezzando poi come ti dicevo proprio non solo ormai per i manga ma anche per le rubriche per tutto quanto comunque ci sono i consigli adesso c'è anche la parte relativa agli anime cioè è diventata una cosa veramente completamente completa che può essere piano piano secondo me può diventare qualcosa di riferimento anche per il pubblico italiano per chi ha voglia di scoprire qualcosa di nuovo per chi ha voglia di trovare anche classici perché alla fine dentro si parla anche di classici si parla di fumetti si parla di curiosità del mondo dalla tipografia come funziona il tipo di carta tipo cioè sono tante curiosità che magari normalmente uno non troverebbe da nessuna parte ma che gli esperti del settore comunque vengono raccontate a me piacciono tanto gli articoli che fa Wish che è un insegnante della Luca Manga School sulla tecnica manga cioè mi piacciono molto perché sono cose molto semplici che però in realtà al lettore generalista non le percepisce mentre sono delle approfondimenti che lo possono aiutare ad apprezzare ancora di più il manga che sta leggendo perché la realtà è quella cioè apprezzi ancora di più quando sai che cosa ci sta dietro tutti gli elementi che compongono diciamo dallo storyboard da tutto quanto dopo visto che adesso ho parlato anche dei webtoon come vengono realizzati che adesso vanno fortissimo anche questi per quanto io per me sono ancora un po' indigesti faccio un po' fatica diciamo sul telefono ancora mi fa strano ho provato a leggere qualcuno su carta ma tutti questi spazi vuoti non mi funzionano io ne ho letti a botti però su formato digitale su carta non si possono vedere mi spiace non si possono vedere cioè non so chi legge solo leveling come abbiamo fatto probabilmente cioè io sono di questa idea che se ti è piaciuto leggere solo leveling su webtoon in webtoon allora ti prendi il cartaceo per tenerlo lì nella libreria così per avere un token ok perché altrimenti non ha senso cioè quelle tavole sono terribili perché non sono il medium giusto per è sbagliato pensare che il webtoon sia un fumetto non è un fumetto no è qualcosa di diverso non è un manga qualcosa di nuovo diverso fatto per fruire sul mezzo digitale come lo smartphone purtroppo è così io adesso sto leggendo anche io qualcosa di coreano sto leggendo Bastardo di Kim Carnby mi sta piacendo tanto però come dicevo sto volume tutte queste pagine nere con i vuoti ti dirò che fra l'altro l'ho sfogliato e quello lì è uno di quelli che tutto sommato si salva perché non so come hanno fatto a impaginarlo così bene ma è difficile impaginare un webtoon in maniera che sembri veramente un fumetto secondo me l'hanno rimaneggiato molto rispetto alla versione digitale però ho visto altra roba che mi ha fatto male agli occhi senza fare nomi senza fare ho detto non è una roba che ce la faccio a leggerla su carta devo leggerla devo leggerla in digitale molto molto anche questo nuovo mondo che viene fuori sempre molto interessante diciamo che abbiamo fatto una bella discussione adesso arrivati a questo punto abbiamo fatto passato presente parliamo un po' anche di futuro cosa c'ha in cantiere dici qualcosa io voglio sapere progetti perché sei uno che hai detto poco fa che non ti piace rimaneggiare le cose vecchie lavori su cose nuove quindi vogliamo sapere su cosa lavori dai allora ci sono vabbè ci sono un paio di progetti di cui posso veramente dire molto poco ma di cui sentirete parlare nei prossimi mesi ok uno è in collaborazione con la Luca Manga School e con tutti gli insegnanti della Luca Manga School però non posso dirvi che cos'è e neanche per che casa editrice uscirà eccetera eccetera quindi non posso interessante però questo però è interessante un altro un altro progetto che sto facendo è un seinen invece è una presentazione in realtà mi ha contattato una persona dicendo appunto che aveva questa questa storia fare un development di questa storia mi ha chiesto di fare personaggi tavole per un seinen che dovrebbe essere quindi un altro lavoro a due sì un altro lavoro a due ok un altro lavoro a due e in più questo su questo vi posso dire qualcosa di più su Senpai Plus uscirà molto presto una una storia di King of Bowls quindi ci sarà un one shot di King of Bowls in in una cinquantina di pagine forse qualcosa di più ambientata alle terme ok qua qua ragazzi abbiamo capito abbiamo capito qua una bella dose di fanservice ci sarà ragazzi quindi non vi preoccupate che quelle belle forme sferiche che avete visto all'interno del manga probabilmente le troverete anche stiamo parlando ovviamente di tutti gli oggetti sferici che lui lancia e queste cose qua niente di niente di diverso ovviamente però ci sarà abbastanza da divertirsi insomma io sono sicuro che mi divertirò e poi altre cose ovviamente ci sono dal punto di vista della colorazione perché sto facendo facendo un altro progetto con la Panini uscirà a breve non so bene quando perché non hanno ancora deciso la data di uscita e sarò il colorista di di questo progetto come già sono stato il colorista di Quarantine Profits che è un altro progetto che è uscito poco tempo fa che appartiene diciamo così all'universo narrativo di Fabio Guaglione che è uno sceneggiatore televisivo di film e adesso anche di fumetti e poi c'è un altro progetto di colorazione anche di questo non è che vi posso dire molto perché ragazzi purtroppo essendo essendo dei progetti a a commissione funziona così ed è anche quello che mi impedisce di distribuire su social informazioni a manetta perché non posso ragazzi anche magari fare delle live mentre lavori immagino sia difficile esatto io farei le live mentre lavoro ma il problema è che non posso cioè posso farlo solo con le mie cose e quelle purtroppo sono limitate perché ovviamente delle cose su cui lavoro per commissione sono le cose che mi permettono di pagare le bollette diciamola diciamola così come sta ok e quindi quello mi dispiace però farò delle live in cui lavoro almeno sulle cose di King of Balls sicuramente lo farò sempre sui Kai Luca Maga School o sul tuo no pensavo di riprendere un attimino in mano il mio canale e di iniziare con non dico un paninsesto però insomma qualche momento settimanale dedicato proprio a un delle live chill in cui disegno e si parla insomma tanti tanti disegnatori lo fanno è una cosa che secondo me funziona molto bella poi diventa un po' anche un raduno per gli appassionati a volte si conosce anche persone che poi magari piace il tuo stile si interessano anche alla scuola vengono a studiare da te come allievi quindi sicuramente può essere anche una pubblicità da quel punto di vista poi immagino che continuerai anche con i contenuti su Kai Luca Manga School no? quelli che mi piacciono troppo non potete adesso prendere così no i robottoni continueranno all'infinito tu non hai idea no ma io ti giuro che sono rimasto impressionato di vedere come Ruggine riesce a creare in pochi secondi un design di robot del genere è una cosa è ridicolo cioè è semplicemente ridicolo però adesso se mi condividi lo schermo qua sul mio sito io ho messo tutte le tutti o quasi ne mancano ancora dei meca che abbiamo fatto io e Ruggine in collaborazione non ve li apro tutti perché sono cioè sono più di un centinaio ok da quando abbiamo iniziato e sono tutte illustrazioni che lui ha disegnato cioè con una perizia che è semplicemente è dovuta al fatto che ha disegnato per non so quanto tempo al giorno meca cioè per disegnare questo che è il Kuro Mukuro non so se avete visto l'anime su Netflix adesso forse l'hanno anche tolto sti maledetti però era un anime robotico cioè per disegnare questa roba qui cioè io con il colore sono andato un attimino a semplificarlo quasi ma per disegnare dei dei volumi di questo genere in maniera che siano roboticamente corretti fra virgolette cioè c'è da diventare pazzi ragazzi però lui lo fa con una semplicità con una velocità che sono davvero impressionanti sono impressionanti perché l'ha fatto 5 miliardi di milioni di volte e quindi sa già qual è il migliore giunto della spalla da utilizzare per quel determinato ha proprio una serie di catalogazioni all'interno della sua testa che partono in automatico dunque anche con il colore così sono una figata incredibile perché poi riesci a dargli anche la profondità le ombre dai davvero una struttura che proprio prende forma il materiale veramente una figata siamo proprio spartiti il lavoro in questo caso perché per esempio in alcuni ha fatto parte degli sfondi per dire in altri invece non ha fatto niente li ho costruiti io dietro e secondo me è proprio la nostra sinergia che che porta diciamo così a cose che anch'io mi stupisco un po' un attimino di quello che viene fuori ogni volta che pubblichiamo un volume perché poi la pubblicazione è indipendente la facciamo noi e quindi ogni volta che vedo le tavole dico però porca miseria si può arrivare a questo livello la pubblicazione indipendente esatto è una roba ridicola se si pensa a vent'anni fa non c'era non c'era non è impossibile fare delle pubblicazioni professionali da indipendente facevi le fotocopie è vero cioè ti presentavi con quello che riuscivi a fare anche nelle fiere in quei piccoli angoli che fortunatamente alcuni spazi stanno crescendo adesso devo dire che per esempio Aluc era un po' sacrificata la self-area quest'anno perché era un po' messa da parte e mi è dispiaciuto sono cercato di fare un giro vedere un pochino è una cosa che io faccio sempre vedere un po' gli nuovi artisti vedere cosa fanno cosa propongono e se posso anche supportare acquistando qualcosa che si dà sempre una mano però speriamo che comunque diano degli spazi sempre più rilevanti anche a queste realtà autoprovolte Luca non penso che lo farà mai devo essere sincero perché nelle sue corde non è quello che vuole essenzialmente non ha quello come obiettivo però ci sono altre zone che invece c'è Modena Nerd piuttosto che anche Bologna che hanno delle vaste aree dedicate alle autoproduzioni e alle artistalle sono curioso di vedere anche cosa succederà a Napoli quest'anno che mi sembra che i Comic Con stanno organizzando un sacco di cose infatti sono curioso andrò sicuramente vedo l'ora di Napoli ci sarò anch'io grande dai noi ci vediamo super bellissimo dai sono troppo contento troppo contento io sarò ti dico prima sarò anche a Gardacon e allora ci vediamo anche lì ci vediamo anche a Gardacon dai a Gardacon come indipendente addirittura mentre benissimo mentre a Napoli invece sarò con lo stand con Manga Senpai ok ora Dani io ti ringrazio per questa serata che è stata bellissima per me mi ha fatto super piacere finalmente essere riusciti a fare una chiacchierata insieme perché non so ci siamo sempre trovati di qua di là tra ciao tio che ti seguivo tu che mi hai seguito tra una cosa e l'altra però non eravamo mai riusciti a fare una chiacchierata quindi sono davvero super contento ricordo a tutti quanti che se volete seguire Daniele lo trovate su Instagram come il Pucci lo trovate anche su Twitch come il Pucci e poi lo trovate anche sul canale di Luca Manga School sempre con le live quindi questi sono principalmente i tuoi social poi c'è anche il suo sito Daniele Rudoni dove praticamente potete c'è anche uno shop dove potete acquistare anche alcuni lavori diverse cose che ha fatto tra cui anche i robotoni di cui abbiamo parlato poco fa che io mi sa proprio che adesso me li prendo perché mi ha fatto venire una voglia incredibile ormai se prima ero convinto adesso sono convintissimo probabilmente chiudiamo la live e me lo vado a comprare fantastico quindi speriamo di vederci presto speriamo di sentirci presto assolutamente l'idea è anche quello piano piano anche nel mio canale poi questo sicuramente sarà riproposto anche su YouTube questa live la ripropongo anche di là così chi vuole può vederla anche lì ma in futuro sicuramente mi piacerà fare altro anche con gli artisti italiani sicuramente che con Fabrizio quindi magari ci sarà sicuramente anche l'occasione di risentirci e di fare qualche cosa insieme poi magari studiamo qualcosa di diverso la prossima volta per stupire anche il pubblico assolutamente assolutamente grazie a te e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito perché veramente la tua community è una di quelle che mi piace di più devo essere sincero quindi ragazzi ancora grazie a Daniele per aver passato la serata con noi grazie a tutti quanti per essere stati qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti